Un vero e proprio caporalato agivano in quasi tutta la Toscana, tra le province di Arezzo, Pistoia, Siena, Prato, Firenze e Pisa pagando alla mano d'opera circa 4 euro l'ora. È stata l'operazione della polizia di Pistoia portata all'arresto per sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita tra i cittadini stranieri che, secondo gli inquirenti, avrebbero sfruttato braccianti stranieri nei vigneti ed oliveti della Toscana. I lavoratori inoltre sarebbero stati portati su cassoni di quattro furgoni rinchiusi con un telo in PVC, tutti i mezzi sono stati sequestrati dalla polizia. Sono inoltre scattate le denunce anche per altri due cittadini stranieri ed un cittadino italiano che avrebbero aiutato i tre nelle attività illecite. La Questura inoltre ha mandato i suoi uomini anche ad effettuare delle perquisizioni in due studi commerciali di un consulente del lavoro di Pistoia. Denunciato anche lui sarebbe stato infatti proprio il professionista, sempre secondo l'accusa, ad occuparsi della gestione delle fatturazioni e della registrazione di alcune posizioni lavorative nella banca dati dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro. I braccianti, in gran parte africani, richiedenti asilo risultavano impiegati al nero e privi di copertura assicurativa, senza maggiorazione alcuna per l'orario straordinario per il lavoro svolto in una giornata festiva.